Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Il Governo nazionale ha deciso di porre fine al blocco dei licenziamenti in scadenza il prossimo 30 giugno, che resterà in vigore per il settore della moda fino al 31 ottobre. Nella nostra regione sono circa 12 mila i lavoratori che rischiano di rimanere a casa nei prossimi mesi. Vediamo. Ad un anno e tre mesi dal decreto legge con il quale il Governo Conte II aveva deciso per la prima volta di ricorrere al blocco dei licenziamenti per fronteggiare l'emergenza Covid, prorogata poi fino al 30 giugno prossimo, resta lo sblocco dei licenziamenti dal 1 luglio, ma ne sono esclusi fino alla fine di ottobre il tessile e i settori collegati, mentre alle aziende in crisi degli altri comparti viene data la possibilità di tenere ancora i lavoratori in cassa fino alla fine di settembre, anziché licenziarli. Proprio questi comparti potranno utilizzare, a partire dal 1 luglio, altre 17 settimane di cassa integrazione Covid gratuita. Per le aziende in crisi degli altri settori che hanno consumato tutta la cassa integrazione, ci sarà invece la possibilità di ricorrere ad altre 13 settimane di cassa straordinaria, a patto di non licenziare. Con queste misure, che il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare tra oggi e domani, il Governo limiterà lo sblocco dei licenziamenti, che altrimenti sarebbe scattato per tutta l'industria e le costruzioni dal 1 luglio. Senza nuove disposizioni, invece, dal 1 luglio si applicherebbe il regime previsto dal Decreto Legge Sostenibis. Questo significa che le aziende con accesso alla cassa integrazione ordinaria potrebbero avviare le procedure sia per i licenziamenti collettivi, sia per quelli individuali per motivi economici. In Abruzzo, al termine del blocco, si potrebbe stimare una perdita di posti di lavoro superiore alle 12.000 unità. Come ci arriva allora l'Abruzzo alla data del 30 giugno? Per la nostra regione si stima una perdita di posti di lavoro superiore alla media registrata nel sud Italia. Ma c'è un altro dato importante, cioè che la regione presenta un aumento del ricorso alla cassa integrazione maggiore rispetto alla media italiana. Ciò significa che le aziende abruzzesi hanno scelto in misura maggiore la CIG e questo perché la pandemia le ha duramente colpite, con difficoltà probabilmente non ancora superate. Di conseguenza è facile ipotizzare che quando non sarà più in vigore il blocco dei licenziamenti, le aziende ricorreranno a numerosi suberi. Per le aziende collegate alla moda, la crisi più grande e più recente in ordine di tempo è quella che riguarda Brioni e i circa 1.000 lavoratori degli stabilimenti dell'area vestina. Per loro dunque il blocco dei licenziamenti sarà prorogato per tutto il mese di ottobre. Comunque martedì 6 luglio in Regione a Pescara è previsto il punto della situazione dopo l'accordo sindacale raggiunto il 22 giugno scorso per gestire al meglio i 320 esuberi annunciati dall'azienda ad aprile al Ministero dello Sviluppo Economico. E questa notizia ha già scatenato le prime reazioni del mondo sindacale. Avevamo protestato con scioperi e manifestazioni in piazza contro la decisione del governo di porre fine al blocco dei licenziamenti. Decisione che a fine giugno diventerà realtà e migliaia di lavoratori entreranno a far parte della categoria dei nuovi poveri. Lavoratori che si vedranno privati del diritto fondamentale di cui parla l'articolo 1 della Costituzione. Oggi, dichiara l'Unione sindacale di base, ci ritroviamo a dover sostenere ad un altro atto che non possiamo che definire vergognoso per le modalità con cui viene eseguito. Alla Sevel di Atessa, nell'anno dell'ennesimo record produttivo, 60 ragazzi interinali, dopo mesi e mesi di sfruttamento, senza il diritto di usufruire del riposo settimanale, con la promessa di una stabilizzazione, vengono rimandati a casa. Come USB abbiamo sempre contrastato questo sistema, imposto dal contratto collettivo specifico. Ci hanno tolto le agibilità di rappresentanza, ma non la forza e la volontà di difendere i diritti dei lavoratori. Per questo, la stessa Unione sindacale di base ha indetto uno sciopero di due ore in tutto il sito Sevel per domani, 30 giugno. Noi cambiamo argomento. Si è tenuto questa mattina il CDA della Saga, nel corso del quale c'è stata l'approvazione del bilancio e l'elezione del neopresidente Vittorio Catone. Si è trattato anche dell'ultimo atto di Enrico Paolini, che lascia la presidenza. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Si è tenuta oggi l'Assemblea dei Soci della Saga, società di gestione dell'aeroporto di Pescara, con il presidente uscente Enrico Paolini, che oggi lascia ufficialmente l'incarico. Sì, è l'ultimo giorno di scuola, come si dice. Abbiamo fatto l'Assemblea dei Soci e la regione ha approvato il bilancio, ovviamente che era un ottimo bilancio. E poi ha nominato presidente della Saga, io non conosco sinceramente, Vittorio Catone, quindi non so che dire, e un altro paio di consiglieri, o tre mi pare, sì tre, perché la Zanchiello è stata confermata, che conoscevo, di cui sinceramente non conoscendo nessuno dei tre non ho francamente nessuna opinione. Spero soltanto che le cose vadano bene per l'Abruzzo e per l'aeroporto, che l'aeroporto è vitale in Abruzzo, produce economia, ricchezza, benessere, quindi metterlo a rischio di una gestione incerta sarebbe veramente grave. Io so che in tre mandati nelle società pubbliche si decade, si scade, quindi era automatico che io scadesse, non è una questione di spoil system o di altre amenità del genere. L'unico problema è che in molte società, in molti comuni, si è deciso, essendoci stato il lockdown di oltre un anno, di prorugare di fatto di recuperare questo anno. Quindi forse il buon senso avrebbe previsto, comunque poteva essere una cosa seria, dare un altro anno all'aeroporto per riprendere i livelli a cui noi l'abbiamo portato, cioè al record dei passeggeri 703 mila, record storico, ai successi enormi che ha avuto in questi anni, riportarlo a quel livello e fra un anno fare queste nomine. Ma sono decisioni che prende il socio di maggioranza, 99% che si chiama Regione Abruzzo. Le prende, se ne assume tutte le responsabilità, qui, ripeto, secondo me, e l'ho detto, c'era bisogno e c'è bisogno di manager, non di nomine politiche. Siccome non conosco le persone in questione, mi auguro che siano i migliori manager possibili, non conosco neanche il loro curriculum, quindi non avrei nessuna ulteriore considerazione da fare. Mi auguro, ripeto, per l'aeroporto che le cose vadano in un certo modo. Io ce l'ho messa tutta, la squadra che è stata con me ha avuto un numero di successi veramente storico per questo aeroporto, più di questo non potevamo fare. Ma io torno ai miei lavori, tenete conto che io qui ho lavorato tre anni, in pratica gratis, a 24 mila euro lordi l'anno, cioè poco più di 12 mila euro netti l'anno, mille euro al mese, 1100, non so, quindi non era un lavoro, era davvero un mettersi al servizio dell'Abruzzo e servire la propria regione, a cui io devo molto nella mia storia e quindi l'ho fatto con grande piacere. Torno al mio lavoro, alla mia famiglia, alle mie occupazioni, al turismo, all'economia, al management. Vero, io, tra virgolette, manager da 10 anni nel settore privato lo sono per davvero, quindi sono 11 anni che lavoro nel settore privato e ho fatto esperienze di tutti i generi, di tutti i tipi, non ho nessuna difficoltà a tornarci. I carabinieri della Compagnia di Monte Silvano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 14 persone che si sono rese responsabili nel periodo compreso tra luglio 2019 e dicembre 2020 della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina marijuana e acish. Le misure cautelari giungono al termine di una prolungata attività di indagine effettuata dai militari della Compagnia di Monte Silvano e diretta dalla Procura della Repubblica di Pescara. Gli inquirenti hanno accertato l'esistenza di una continuativa attività di spaccio a catena che partiva dagli indagati per giungere ai consumatori finali della sostanza stupefacente. Sono state documentate plurime cessioni di sostanze stupefacenti che hanno portato a svariati sequestri per un totale di 5,5 kg di marijuana, 1 kg di acish e 260 g di cocaina, nonché l'arresto in flagranza di reato di 11 persone. L'attività di indagine ha permesso di accettarne che alcuni degli indagati, al fine di diversificare i canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente, importavano pacchi di acish utilizzando ignari corrieri che raggiungevano indirizzi fittizi appositamente scelti per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Gli indagati sono stati sottoposti alle misure cautelari del divieto di dimora nei comuni di Monte Silvano, Città Sant'Angelo e Silvi. Si tengono oggi all'ospedale di Pescara le giornate per la prevenzione oncoginecologica per le donne. È importante ancora una volta la prevenzione. Vediamo. Si tiene oggi all'ospedale Santo Spirito di Pescara la giornata della prevenzione oncologica e ginecologica, uno strumento utile e anzi indispensabile per la prevenzione. Al fianco dei medici del reparto presieduto dal dottor Maurizio Rosati ci sono i volontari dell'Adricesta di Carla Pansino. L'iniziativa è stata appoggiata dall'assessorato alla salute del comune di Pescara. L'Adricesta è sempre pronta a rispondere anche a tutti coloro, tutti i medici che ci chiedono di dare un supporto logistico e anche organizzativo. Diciamo che la segreteria del reparto si è organizzata benissimo. Noi stiamo collaborando con un servizio di accettazione e accompagnamento delle utenti, gli ambulatori, nonché distribuire materiale informativo. Ci siamo perché è imprescindibile per noi l'accoglienza dei reparti ospedalieri per tutto, soprattutto i bambini, ma anche le donne e gli anziani. E proprio in virtù di questa grande volontà dell'Adricesta di rendere e umanizzare il più possibile gli spazi ospedalieri, non potevamo non partecipare a questa giornata, che non può limitarsi a una giornata annuale. Deve avere una cadenza anche trimestrale per consentire a tutti coloro che questa volta, la maggior parte, non hanno potuto aderire a questa giornata perché le richieste sono state superiori alle possibilità di accettazione delle utenti, per poter consentire a tutte le donne di poter accedere a un controllo gratuito oncologico e soprattutto anche diagnostico. L'aderenza alle campagne sia di screening che di sorveglianza sono il primo requisito per avere successo nell'incidenza e nella possibilità di cura, per cui è importante che ci sia una costante attenzione alle campagne di informazione, ma devono essere messe anche in condizioni le donne della provincia di Pescara e dell'Als di Pescara di accedere agevolmente e per noi infatti noi ci siamo dotati di un percorso oncologico dedicato, già ormai da tanto tempo e abbiamo nuove idee e abbiamo nuove necessità, specie di spazi da dedicare a queste attività di sorveglianza. La prevenzione è fondamentale perché la prevenzione può evitare che poi si vada incontro a delle situazioni irreparabili. Io oggi sono qui come assessore con delega alla salute del Comune di Pescara per testimoniare, per invitare tutte le donne a fare prevenzione, ad approfittare tra virgolette di queste giornate che vengono messe gratuitamente a disposizione dalla ASL e soprattutto con l'intervento di medici qualificati che contribuiscono a far sì che questa prevenzione venga fatta nel miglior modo possibile. Inizieranno a breve i lavori di ristrutturazione integrale del mercato coperto di Teramo. Il Comune intende finanziare il progetto con 3 milioni di fondi propri e trasformare un edificio fatiscente in un luogo a vocazione commerciale e culturale. In sintesi un teatro dell'enogastronomia. Tania Bonici Castelli Dopo 30 anni di promesse e impegni da parte delle amministrazioni comunali che si sono via via succedute, oggi il Comune di Teramo ha presentato il progetto di ristrutturazione integrale del mercato coperto di Piazza Verdi. Parliamo di un edificio anni 60, degradato e fatiscente, situato nel cuore della città archeologica, a due passi dal Teatro Romano e dal Palazzo Braga. Un luogo sul quale l'amministrazione d'Alberto intende puntare per il rilancio di Teramo Capoluogo e per il quale stanzia 3 milioni di fondi propri. Tre anni di lavori per trasformare un cubo vuoto in quattro piani dedicati alla vendita di prodotti a chilometro zero, a spazi commerciali e alla ristorazione. Un teatro dell'enogastronomia teramana. È stato un progetto che ci ha portato via tante energie, perché dovevamo ragionare su qualcosa che non è mai esistito, che non doveva rappresentare neanche la copia di qualcosa già esistente a livello mondiale. Il mercato coperto di Teramo, che avrà una sua caratterizzazione sia sotto il profilo commerciale, sia sotto il profilo sociale, sotto il profilo economico, ma si integrerà a livello archeologico, con l'area circostante. La ristrutturazione del mercato coperto di Piazza Verdi rientra in un disegno complessivo che si colloca nella nuova visione urbanistica che il sindaco d'Alberto intende imprimere a Teramo insieme ad altri progetti strategici, il recupero delle palazzine popolari di Via Longo, del Teatro Romano e del Parco Fluviale. Negli ultimi mesi abbiamo presentato un parco progetti di oltre 50 milioni di euro per la nostra città, valorizzando tutte quelle che sono le risorse ambientali, culturali, produttive, ripartendo di fatto da zero. Siamo partiti da zero perché nulla era stato lasciato, non c'era un'idea, non c'era un'idea di sviluppo della nostra città. Oggi finalmente, nei fatti e non nelle parole, la nostra città ha una prospettiva, è una prospettiva che oggi dobbiamo coltivare e sviluppare. E ovviamente il progetto del mercato coperto, che è anche valorizzazione di Teramo città universitaria, perché sicuramente diventerà il fulcro fondamentale e anche nel dialogo culturale con il Braga e il Teatro Romano di tutta la nostra città. Nel progetto di recupero del mercato coperto di Teramo è prevista anche la ripavimentazione della prospiciente Piazza Verdi, dove anche il numero di stalli sarà rivisto per renderla maggiormente fruibile ai pedoni. Tre anni di lavori dunque, ma dove saranno spostati provvisoriamente i venditori di prodotti alimentari che attualmente lavorano dentro il vecchio mercato? Un interrogativo al quale per il momento non c'è risposta. Torniamo in provincia di Pescara, un cartellone estivo ricco di eventi e che coinvolgerà tutta la città. A Montesilvano parte un'estate tutta da vivere e per tutti i gusti. Vediamo. Un'estate ricca di eventi per la città di Montesilvano, tutte le età coinvolte e poi spettacoli, sport, cultura e tanto altro. Sì, tanti spettacoli per tutta l'età e per tutti i gusti. Come del resto scorso anno abbiamo ragionato un format che possa vedere la nostra città nella sua interessa coinvolta con degli eventi diffusi sul territorio. In modo particolare le location saranno quelle dei pontili sul lungomare, di largo Mezzuela, ma anche del nostro meraviglioso borgo che vivrà dei momenti importanti in musica, ma anche alle scoperte del territorio. Tutte le sere ci saranno eventi in concomitanza, tre, anche quattro eventi. Questo per dire quanto abbiamo voluto arricchire la nostra già importante isola pedonale per far sì che la nostra Montesilvano sia sempre più attrattiva anche da questo punto di vista. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e siamo certi di regalare bellissimi momenti, tutte le sere, appuntamento a tutti i turisti e tutti i cittadini per vivere un'estate importante. Abbiamo diverse date importanti, tra le quali ricordo il 17 luglio ci sarà un'importante sfilata di Ferrari, un evento nuovo saranno 40 Ferrari presenti sul territorio di Montesilvano e che gireranno tutto il territorio e si posizioneranno poi per una mostra statica. Abbiamo il contenitore dei salotti di cultura e spettacolo con nomi importanti, ne cito uno per tutti, Albano, che sarà presente a Montesilvano per un'importante intervista. Abbiamo il contenitore Arrisate Abruzzesi per la prima metà della settimana di Ferragosto con i nostri comici più importanti, più in vista per far trascorrere dei momenti di spensieratezza dopo il Covid. Ci risulta indispensabile in questo momento ridere e svagarsi. Insomma, gli eventi sicuramente non mancheranno. Ricordo che questi sono ovviamente detti in pillole, quelli che possono essere maggiormente in rilievo, ma ci sarà musica e spettacolo tutte le sere. Si è tenuta questa mattina la presentazione della quarta edizione di Ecomob in programma a Pescara dal 2 al 4 luglio. Ecomob è il primo grande evento del Centro Sud Italia dedicato alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e all'ecologia. Vediamo. Presidente, torna l'appuntamento con Ecomob, Camera di Commercio, che anche quest'anno ha deciso di appoggiare in pieno questa iniziativa, perché si parla di ecosostenibilità, si parla di verde, si parla di ambiente? Certamente sì. Diciamo che questa Camera di Commercio ha anticipato un pochino i tempi, perché questa è la quarta edizione. Noi continueremo a farlo con grande impegno, perché la sostenibilità significa allungare la vita, la sostenibilità significa qualità della vita. Finché ci impegniamo su queste cose, io sono sempre d'accordo. Sicuramente è un Expo che entra nel vivo anche della sfida che stiamo attraversando in questo momento. Si parla tanto di mobilità sostenibile anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è un momento di vita vissuta dove possiamo sperimentare le nuove tecnologie, ma al tempo stesso confrontarci con questa nuova cultura di mobilità. E sarà anche il momento per fare il punto sulla situazione abruzzese, sui maggiori comuni abruzzesi. Non a caso il venerdì, appena dopo l'inaugurazione, ci saranno anche gli stati generali della mobilità sostenibile in Abruzzo, proprio per capire a che punto si è arrivato e quali sono le sfide e gli impegni da raccogliere in modo da ottimizzare in modo veloce questi obiettivi che lo stesso PNRR ci impone a 5 anni. Quarta edizione di Ecomob torna a questo appuntamento, che ormai sta diventando un classico dell'estate nella nostra regione, perché si parla di ecosostenibilità ed è un argomento sempre molto sentito. Sì, un punto di riferimento non soltanto per la nostra regione, ma veramente siamo diventati un punto di riferimento per tutta l'Italia. Noi all'inizio pensavamo fossimo i primi del centro-sud Italia, i primi ed unici invece del centro-sud Italia, ma adesso ci siamo resi conti che forse siamo gli unici con questo format in tutta Italia. Quindi questo per noi è un motivo d'orgoglio e credo che lo sia anche per tutta la regione. Riconoscimento ai cittadini che si impegnano per la comunità terramana da parte dell'Associazione Culturale Teramo Nostra, con uno sguardo particolare al mondo delle donne, il servizio. Queste due manifestazioni che quest'anno abbiamo unito, la festa della terramanità, il premio Gian Domenico di Sandri, il premio Anna Pepe, ogni anno diamo dei riconoscimenti, soprattutto ai cittadini che si impegnano per la nostra città, che hanno dato qualcosa per la nostra comunità. Questo è il fine ultimo principale, che non è un Nobel, ma è più di un Nobel perché è il riconoscimento della città verso i cittadini che si sono impegnati. Il premio Anna Pepe è un premio molto importante per la città di Teramo perché ricorda una persona, una donna, la cara Anna Pepe, che ha segnato in tante occasioni la terramanità. Infatti tante sono state le battaglie che ha portato avanti insieme all'Associazione Teramo Nostra, non da ultima quella sul Teatro Romano, che finalmente sta raggiungendo l'obiettivo. Infatti già nei prossimi mesi i De Palazzi, il Palazzo Damoni e il Casasalvoni verranno abbattuti. Ma soprattutto perché questo premio ha un significato doppio per Teramo, proprio perché è intitolato ad Anna, ha un significato molto importante per la nostra comunità perché oggi andiamo a premiare delle donne che ogni giorno in maniera silenziosa lavorano per la nostra comunità e magari noi neanche lo sappiamo. E proprio per questo ha un valore importante perché ci porta alla ribalta il lavoro operoso di tante donne che nel quotidiano contribuiscono a livello sociale alla nostra comunità. Lo sport adesso, l'ultimo giorno per presentare le domande e di iscrizione al campionato di Lega Pro regala due conferme e una sorpresa. Tutto che per il Teramo, mentre lunedì prossimo scade il termine per le vincitrici della Serie D. Ma intanto adesso ci sarà il controllo delle domande da parte della Covisoc. Jacopo Forcella. Novare e Catania dentro, a sorpresa la Casertana fuori. L'ultimo giorno per la presentazione delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro regala due conferme sul filo di lana e un colpo di scena decisamente inaspettato. E dunque allo stato attuale, oltre al Gozzano, anche la formazione campana potrebbe abbandonare il mondo dei professionisti. Non siamo riusciti ad ottenere la fideiussione, ha detto ieri sera il patrono del rosso-blu d'Agostino. Il club ha inviato la restante documentazione in Lega e proporrà ricorso, asserendo di aver fatto tutto quanto è possibile per ottenere la garanzia bancaria. Ma le speranze di accoglimento sono quasi nulle e di conseguenza si libererebbe un ulteriore slot per ripescaggi o riammissioni, considerando che l'Aglianese potrebbe già sfruttare la casella che il Gozzano, che a tempo comunque fino al 5, in quanto ne ho promosso dalla D, dovrebbe lasciare libera. Pesano per il club piemontese, che ricalca le orbe del campo d'Arse con la passata stagione, i costi di iscrizione e di gestione. Inoltre un altro problema sarebbe legato allo stadio d'Albertas, che necessiterebbe di alcuni lavori e che costringerebbe la società della Presidente Leonardi ad un altro trasferimento. Si pensa ad una nuova iscrizione in Serie D. L'impresa di giornate invece la compie, è proprio il caso di dirlo, il Catania che evita il fallimento e sul filo di lana si iscrive al campionato di Serie C anche grazie all'aiuto dei tifosi. Gli interrogativi però adesso riguardano il futuro immediato della società etnea. Nel pomeriggio di ieri fumata bianca per la ricapitalizzazione da 2,3 milioni di euro necessaria per il rispetto dei parametri finanziari richiesti dalla FIGC, che ha preceduto l'invio della domanda di iscrizione delle quietanze di pagamento degli stipendi dei calciatori fino a maggio 2021, delle tasse fino a febbraio 2021, dell'Inps fino a maggio 2021 e della fideiussione assicurativa da 350 mila euro. Così come il Novara, altra squadra in bilico, ieri alle 21 nella sede della Lega Pro a Firenze ha consegnato la parte finale della documentazione. Colteramo, che nel corso del fine settimana aveva messo a punto tutto per presentare quanto dovuto, il lotto delle partecipanti sarebbe chiuso. Sarebbe appunto, perché la prossima settimana la Covizoc, società che revisiona i conti delle scuole professionistiche, dovrà controllare la regolarità di tutte le istanze formulate alla Lega di Firenze e nel caso escludere chi non ha ottemperato tutte le scadenze. L'istruttoria dovrebbe finire l'8 luglio, ci sarebbe poi un tempo per le società con la domanda respinta di preparare un ricorso. A quel punto spetterà al Consiglio federale. A proposito di scadenze, il 5 luglio lunedì prossimo è fissato il termine per le formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie D. Manca all'appello ancora il girone I. A Campobasso, la società americana pare abbia trovato i fondi per iscrizione al campionato. La società Rosso Blu ha dichiarato per vie ufficiali che sta lavorando per ultimare gli adempimenti per iscrizione, ma assicurano che non ci saranno problemi. A metà mese o comunque nella seconda parte di luglio si chiuderà il lotto delle partecipanti e dare poi il via alla composizione dei gironi. Scendiamo di categoria. Il successo nella finale play-off contro il notaresco nelle parole di un soddisfatto presidente pinetese Silvio Brocco che però allontana le possibilità di un eventuale ripescaggio. In Lega Pro vediamo. Presidente Brocco, lei se lo ricorda il 4 febbraio più o meno com'era la situazione a Pineto? Si veniva da una sconfitta a Castelfidardo, cambio di panchina? Sembrava veramente un bruttissimo momento. Sono passati meno di 5 mesi. Sì. e questo vuol dire che c'è stata la volontà e la forza di ricominciare proprio da quella data quando il nostro amico mister Daniele Amaolo dette le dimissioni e accettammo anche per ridare una motivazione in più alla squadra. Abbiamo compattato questa squadra a grande merito all'allenatore, al preparatore atletico, a tutto lo staff, a tutti quanti e soprattutto ai ragazzi che hanno mostrato un impegno incomiabile fino all'ultimo secondo. Peraltro sotto la sua presidenza il Pineto aveva già sfiorato la vittoria dei play-off. Una sconfitta in semifinale, una sconfitta in finale. Finalmente è arrivata la vittoria. Sì, diciamo che il Pineto ha avuto sempre dei piazzamenti onorevoli. L'anno scorso purtroppo ci fermiamo otto partite dalla fine per le situazioni che sapete. Però quest'anno abbiamo ricalcato su quell'onda rinforzando la squadra con elementi di spicco, di valore e questo l'hanno dimostrato in tutte le partite. Se l'aspettava una crescita di un allenatore che peraltro voi conoscevate bene però era la prima volta allenando nella prima squadra. È veramente una bellissima sorpresa da parte di Marco Pomante. Nulla da dire, chiaramente deve fare le sue esperienze. Un allenatore ha una grande responsabilità quello di far scendere gli undici che poi il risultato dà ragione oppure no. Però noi della società gli stiamo molto vicini e speriamo che lui continua a fare bene. Presidente, è chiaro che con la vittoria ai play-off la domanda è un po' d'obbligo. Chiaramente si entra all'interno di una graduatoria nazionale pensierino. So che è un pensierino costoso però il pensierino... Questo ci fa piacere perché il Pineto viene sicuramente ancora di più apprezzato sia a livello di Lega sia a livello delle altre società. Noi trattiamo bene tutti quanti quindi siamo molto contenti e chiaramente diciamo che oggi come oggi non siamo pronti per affrontare un campionato professionistico. Vediamo, aspettiamo se la Lega ventila quella riforma se dovesse succedere questo allora ci impegneremo sicuramente per vincere un campionato. Però discorso futuribile non quest'anno. Futuribile non di quest'anno sicuramente. Cambiamo disciplina Giulio Ciccone e Marta e Bastianelli convocati dai CT Cassani e Salvoldi per la prova olimpica di ciclismo a Tokyo con loro due l'Abruzzo torna protagonista sulle strade a cinque cerchi vediamo. Tokyo 2020 almeno sulla strada parlerà anche un po' abruzzese sia al maschile che al femminile. I commissari tecnici Cassani e Salvoldi infatti hanno diramato le convocazioni per le prove su strada dell'Olimpiade Nipponica tra gli uomini c'è il nostro Giulio Ciccone raduce da un giro di taglia per due terzi di grande livello e che senza Tour de France si sta preparando per la volta di Spagna ma lo farà potendo essere anche uno dei cinque moschettieri di Tokyo insieme a lui anche Alberto Bettiole dello Educations First che al giro ha vinto la tappa di stradella ma in carriera ha fatto su anche un fiandre ed è uno di quelli che possono dare una stoccata imprevista e imprevedibile poi vista la corsa rosa di quest'anno non poteva mancare Damiano Caruso secondo classificato e leader strada facendo della Bahrain Victorious dopo la caduta di Michelanda Caruso non poteva non esserci perché ha dimostrato di essere uno degli italiani più in palla anche se mancano ancora più di 20 giorni per la prova olimpica Gianni Moscon invece ha trascinato i gambernal sulle strade del giro e ha appena fatto su il Gran Premio di Lugano ha saltato il Tour accanto ai tanti leader della Ineos ma è stato sensazionale nelle tre settimane al giro e poi Vincenzo Nibali l'uomo di cui si è parlato soprattutto paventando nell'esclusione cosa poi che non è avvenuta anche se lo squalo di Messina è evidentemente in fase calante ma è il ciclista tricolore in attività più vincente e l'esperienza a vincere conta Giulio Ciccone ritroverà Nibali compagno di squadra la Trek Segafredo domenica scorsa ai campionati italiani le scintille tra i due che hanno certificato che la convivenza critica prima adesso sarà impossibile chissà che la maglia tricolore non possa porre fine almeno temporaneamente a un momento di tensione in corsa Ciccone ha detto il commissario tecnico Cassani mi ispira fiducia sa prepararsi molto bene per eventi importanti come questo e per due terzi del giro è stato il migliore degli italiani fronte rosa e l'Abruzzo resta protagonista grazie a Marta Bastianelli scelta dal commissario tecnico Salvoldi per cercare anche qui una medaglia la ragazza laziale ormai trapiantata in Abruzzo in questo mese di giugno ha già fatto vedere di essere in palla allo sprint nella seconda e ultima tappa del Tour de Suisse se Nibali tra gli uomini ha le stimmate del vincente Marta è una super vincente campionessa del mondo campionessa d'Europa e campionessa d'Italia ha vinto un Fiandre una Gand Wevelgem una freccia del Brabante insomma se si parla di abitudine al successo Marta è una sicurezza con lei l'omonima Marta Cavalli insieme a Tatiana Guderzo Soraya Paladin ed Elisa Longoborghini appena confermata campionessa italiana Imola due abruzzesi dunque per potenziali sei medaglie Giulio e Marta ci proveranno non sarà facile ma Tokyo potrebbe portare l'Abruzzo sul tetto del mondo del ciclismo e con questa bellissima notizia per i campioni del ciclismo abruzzese si chiude il nostro telegiornale prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 19 grazie per averci scelto grazie per averci scelto